Grazie a tutti. 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 La nazione dei cittadini individualmente considerati, presi uti singoli, i quali si esprimono attraverso la rappresentanza nel Parlamento. Naturalmente c'è il problema che questi cittadini sono pochissimi rispetto alla popolazione, questa è la nazione che vince, la nazione liberale, la nazione cavuriana, la nazione parlamentare, però ci sono altre concezioni di nazioni durante il sorgimento. C'è la concezione, sempre anche qui, mazziniana, la concezione del popolo, che la nazione, il vero cuore della nazione deve essere il popolo. Una parola molto vaga, un termine che si presta a mille accezioni, che però vuol dire qualcosa di radicalmente diverso e alternativo rispetto alla nazione dei cittadini del Parlamento. Non per nulla la forma preferita che, nelle poche circostanze in cui i mazziniani riescono a, come dire, affermare una forma di Stato durante la Repubblica Romana, è quella del soffragio universale, addirittura a volte, diciamo così, del governo dittatoriale, nella figura di Garibaldi, qualcosa comunque di completamente diverso dal Parlamento. Quindi, appunto, sia lo Stato che la nazione si affermano, ma con delle ipoteche, delle alternative, delle insicurezze profonde. E, naturalmente, anche il patriottismo ne risente. Il patriottismo è, diciamo così, il sentimento dell'appartenenza alla nazione, allo Stato nazionale, che all'inizio è molto limitato, naturalmente. E' condiviso da tutti quelli che si riconoscono nella politica capuriana, è accettato, bon gré e mal gré, perché ormai è lo Stato di fatto, da un'altra parte, diciamo così, della classe borghese, delle classi dirigenti dei vecchi Stati italiani, ma, diciamo così, non si può certo pensare che le masse popolari abbiano un sentimento patriottico all'indomani dell'unità. E quindi, questa caratteristica, che percorrerà tutta la storia d'Italia, novecento incluso, che, diciamo così, lo Stato deve creare una nazione, lo Stato deve diffondere il patriottismo, lo Stato diventa un agente, per consolidarsi, diventa un agente, diciamo così, obbligatorio, obbligato di socializzazione patriottica. lo fa attraverso la scuola, attraverso il servizio militare, attraverso i nomi delle strade e delle piazze, mille modi. Questo, però, è un'anomalia, è un'anomalia. In genere, diciamo così, negli altri paesi europei, almeno dell'Europa occidentale, la nazione viene prima dello Stato. E' naturalmente uno Stato che crea la nazione, che in qualche modo diventa una cosa dall'alto. Il patriottismo diventa anche, come dire, una sorta di ideologia statale, ideologia statale, che quindi si identifica con degli equilibri anche politici ed istituzionali. Perde quel suo carattere di universalità, che in qualche modo è connesso all'idea di patria, che è la patria, la patria di tutti. E' una patria nata in questo modo, nata per, diciamo così, comando politico dello Stato, attraverso i canali dello Stato, è un sentimento della patria che ha, evidentemente, dei limiti. E, al di là di questi limiti, c'è poi un altro fatto che caratterizza questo patriottismo. Appunto, dicevo, negli altri paesi d'Europa non avviene così. I francesi sono francesi prima di identificarsi con uno Stato. Si può essere francesi essendo monarchici, si può essere francesi essendo rivoluzionari, si è sempre francesi, naturalmente. Non c'è una parte della società che si sente, diciamo così, francese e può non riconoscere le istituzioni, ma sempre francese. Gli altri sono obbligati, i loro nemici, sono obbligati a riconoscerli come francesi. In Italia non è così. In Italia non è così. I cattolici sono, diciamo così, dal punto di vista politico, i grandi esclusi dalla coine nazionale ufficiale. Dalla coine nazionale ufficiale. Ai cattolici sarà, diciamo così, impedito dalla storia, dal risorgimento, e questa questione, Dio sa quanto pesa nel Novecento, di essere italiani. Pensate che alla fine dell'Ottocento le organizzazioni cattoliche che esistono e cominciano a essere molto importanti, e che però desiderano essere italiane, non possono, quando organizzano i congressi, le sfilate, non possono però sventolare la bandiera italiana, perché quella è la bandiera del nemico, è la bandiera dei liberali, dei Savoia che hanno tolto il potere al Papa. E allora si inventano bandiere italiane sui generi, se per esempio una bandiera bianca, l'opera dei congressi, una bandiera bianca con l'Italia, la forma geografica dell'Italia ricamata in oro, bianco e oro sono i colori del Vaticano, ovviamente bianco e giallo, e l'Italia è la penisola, insomma, è la forma della penisola, quella è la bandiera italiana, che è una drammatica, patetica, anche se volete, diciamo così, dimostrazione della difficoltà, in qualche modo, del sentirsi e voler essere italiani, ma non poterlo essere, secondo la versione ufficialmente accreditata dell'essere italiani. E anche il patriottismo di quelli che invece si riconoscono, il patriottismo ufficiale italiano ha delle caratteristiche particolari che si faranno e come sentire nella storia del Novecento. È un patriottismo obbligatoriamente rivolto al futuro, è un patriottismo che ha costitutivamente un'attenzione al futuro, perché? Perché non ha dietro una tradizione, non ha dietro un passato. L'unico modo di essere patriottici in Italia diventa immediatamente quello di guardare al futuro, di pensare che lo Stato debba avere, il nuovo Stato debba avere un grande, un'espansione coloniale, debba diventare un grande paese industriale, debba fare qualcosa. Questo è una cosa molto importante, questo elemento, diciamo così, non passatista, di un'idea di nazione, di un patriottismo che non ha un passato, non ha una tradizione, perché, sì, certo, una tradizione letteraria c'era, ma tutto lì, poi basta. Perché è importante? Perché è la ragione per cui il nazionalismo italiano non avrà un carattere reazionario, diciamo così, ma avrà un carattere, invece, non ci sarà un nazionalismo come quello francese, avrà un carattere, sì, naturalmente, dal punto di vista sociale, gerarchico, autoritario, però un carattere, diciamo così, culturalmente volto al futuro, modernista, per esempio, un carattere culturalmente modernista. Le principali avanguardie italiane sono, sia nel campo dell'età, sono nazionaliste. Questo è impensabile in altri paesi, in altri paesi. In Italia i futuristi sono legatissimi al movimento nazionalista. Il movimento nazionalista italiano, che nasce nel Novecento, è un movimento di intellettuali e di giovani, cioè proprio quello che uno in genere non si immagina che siano proprio, insomma, dei patrioti, di intellettuali e dei giovani. Tutto questo trasmette al Novecento italiano un senso di incompiutezza. Sì, è vero, abbiamo fatto uno Stato, ma abbiamo una nazione, siamo un po' patrioti, chi lo può essere, diciamo così, però, diciamo così, c'è alle spalle una serie di incompiutezze da risolvere. Questo pone l'Italia in una condizione molto più simile a paesi dell'Europa orientale, tipo la Serbia, innanzitutto, piuttosto che la Francia. I francesi non avevano l'idea che lo Stato francese avesse qualcosa di incompiuto, che si dovesse realizzare ancora qualche cosa di decisivo per la sua identità, così come non ce l'avevano gli spagnoli, non ce l'avevano gli inglesi. L'Italia, invece, si trascina dal suo momento di fondazione, appunto, questo senso di incompiutezza, che è molto forte, specialmente nel ceto intellettuale, nel ceto intellettuale, che infatti sarà un ceto decisivo, forse soltanto, non a caso, paesi come la Russia e la Germania hanno visto il ceto intellettuale avere un ruolo politico così forte come in Italia. Il ceto intellettuale, il novecento italiano, inizia, per l'appunto, con una fortissima polemica del ceto intellettuale contro lo Stato esistente, contro chi lo rappresenta politicamente, cioè contro il giurittismo, contro l'italietta, appunto, accusato di essere una roba da poco, perché? Perché non ha risolto le incompiutezze che ci trasciniamo dal risorgimento. E questi intellettuali, appunto, cosa vogliono? Vogliono rifondare in qualche modo lo Stato, avere uno Stato nuovo. La parola nuovo incomincia a essere un leitmotiv dal novecento, della, come dire, della mentalità, della sensibilità, dell'immotività politica italiana, le due più importanti pubblicazioni, le due più importanti intellettuali politici della prima metà del novecento, hanno tutte e due dentro la parola nuovo, energie nuove, il giornale di Gobetti, l'ordine nuovo, il giornale di Grau. C'è un'ansia di novità perché quello che ci portiamo appresso, appunto, è roba che deve essere cambiata. Quindi, rifondare lo Stato, in che modo? Innanzitutto, riformulando l'idea di nazione, riformulando l'idea di nazione e integrando questa nuova idea di nazione con la nuova idea di Stato. All'insegna di altro leitmotiv tipico di tutta la storia italiana, che ancora oggi ci portiamo appresso, di una riforma intellettuale e morale appunto degli italiani. La riforma intellettuale e morale. Il risorgimento tra le tante cose che non ha risolto non è riuscito neanche a creare degli italiani nuovi, onesti, studiosi, volenterosi, nonostante appunto il cuore, Pinocchio, eccetera, eccetera, ma gli italiani sono sempre appunto quelle canaglie immorali, insomma, chi legge i giornali grandi, le grandi riviste politiche italiane dell'inizio del Novecento a cominciare dalla Voce vede appunto una disamina spietata dell'antropologia negativa degli italiani che devono essere appunto corretti. Solo se si riuscirà in questa impresa di rinnovamento dello Stato, della Nazione, del carattere degli italiani sarà possibile sarà possibile riguadagnare guadagnare quel traguardo che già il risorgimento si era posto, ma che ancora di più più passa il tempo più diventa come un traguardo sentito come impellente per lo Stato e la Nazione che è il traguardo della modernità. Dicevo appunto fin dall'inizio l'idea di diventare moderni era stato diciamo così ricordate come finiscono l'ultima pagina proprio della storia della letteratura italiana di De Sanctis fare il mondo moderno il mondo nostro perché noi non siamo moderni perché siamo stati tagliati fuori non abbiamo avuto la riforma siamo stati tagliati fuori da tutto il processo di crescita dell'Europa civile dell'Europa moderna finalmente con un disperato atto di volontà di eroismo siamo riusciti a costruirci questo stato e questa nazione però appunto dobbiamo riuscire a raggiungere l'obiettivo ulteriore e più importante che ci porterà quello sì alla pari con gli altri la modernità dobbiamo essere moderni come sono moderni gli altri tutte le culture politiche italiane del novecento il cattolicesimo politico il nazional fascismo il comunismo nella versione gramsciana eppure in molti sensi l'azionismo e vi dico una cosa che vi scandalizza in un certo senso perfino il berlusconismo se si può parlare di una cosa in ismo nascono con questa idea di fare l'Italia moderna rifondare lo stato portando il popolo nello stato riportare il popolo le masse nello stato e in questo modo conseguire la modernità questa idea che appunto l'Italia ha la sua massima incompiuta lo stato e l'italiano ha la sua massima incompiutezza perché il popolo le masse popolari poi naturalmente di popolo si possono dare molte versioni ma diciamo così appunto una parola complessiva le masse popolari non sono nello stato e che soltanto a questo patto si può essere moderni si può diventare moderni e di questo appunto in questo modo lo stato può acquistare quella efficacia e quella capacità che gli mancano c'è uno straordinario discorso di Mussolini del 27 il discorso dell'ascensione in cui Mussolini rivendica al fascismo l'idea di aver portato il fatto di aver portato le masse che avevano fatto la guerra insomma poi appunto ognuno interpreta la parola massa a suo modo naturalmente ma comunque di aver cancellato il vecchio stato oligarchico notabilare della borghesia risorgimentale la polemica contro il notabilato oligarchico del fascismo è molto forte di aver spazzato via questo di aver portato le masse nello stato attraverso la rivoluzione fascista e come disse Mussolini di aver trasformato un insieme di prefetture mal connesse e cuscite con il fil di ferro dei fucili di averle trasformato in uno stato in una nazione vera e così diciamo l'equazione del novecento italiano l'equazione del novecento italiano vede fin dall'inizio tutti gli elementi in campo le masse lo stato la modernità la politica lo stato vuol dire la politica lo stato vuol dire il comando politico corazzato della forza dello stato la modernità italiana per quello che esiste esiste in grande parte deve moltissimo alla politica è molto più frutto della politica delle enorme capacità che solo la politica attraverso lo stato ha di mobilitare risorse di mobilitare risorse di ogni tipo piuttosto che della mitica società civile insomma che bisogna riconoscerlo buongre malgre insomma non è mai non ha mai brillato per per iniziativa capacità realizzativa anche se sicuramente molte cose le ha fatte anche la società civile ma gli impulsi maggiori mobilitanti alla modernità sono venuti in Italia dalla politica dalla decisione politica del resto guardate questo è perfettamente in armonia con il carattere del novecento il novecento vede il trionfo della politica se c'è stato un secolo politico per antonomasia fino al delirio se volete fino al appunto alla manifestazione estrema di quello che è il nocciolo della politica cioè l'antagonismo in amico-nemico che porta all'uccisione la soppressione fisica del nemico è stato appunto il ventesimo secolo e protagoniste di queste equazioni appunto sono stati in Italia particolarmente ma non è solo il caso appunto quando c'è un'esplosione di politica la più violenta ci sono sempre di mezzo gli intellettuali diceva Voltaire non conosco un libro il nome del quale non si possa ammazzare qualcuno ecco gli intellettuali avendo letto molti libri sono evidentemente molto portati a sopprimere quelli che non sono d'accordo con loro evidentemente però comunque appunto per intellettuali non bisogna pensare a grandi figure intellettuali anche seppure questi nel novecento italiano le massime figure del novecento italiano appunto sono state impegnate nella politica fino non è un caso l'Italia è l'unico paese ma non è soltanto l'Italia pensate a Croce pensate a Gentile pensate a tutti diciamo così la politica ha rappresentato un destino vincolante per l'intellettualità italiana questa attesa quindi di res nove novità bisogna cambiare bisogna cambiare e le res nove arrivarono poi la res nova fu la guerra la prima guerra mondiale è stata diciamo così la la piattaforma di lancio delle novità politiche italiane diciamo così perché tutto questo ammasso di sentimenti di concezioni di propositi di idee diffusi inizialmente solo in cenacoli letterari in riviste in ambienti politici ultraminoritari diventassero veramente realtà qui c'è qualche cosa di inspiegabile della storia italiana legata alla prima guerra mondiale c'è qualcosa veramente diciamo così che indica quanto in politica i fatti contano pochissimo e contano moltissimo come li si vive contano moltissimo le emozioni le disperazioni i sogni le allucinazioni molto spesso per fortuna molto spesso contano i fatti ma ci sono delle occasioni critiche e le guerre sono naturalmente delle grandi occasioni critiche in cui può accadere in Italia accade precisamente questo che il valore dei fatti venga passi in secondo ordine e diventa invece più importante altre cose che con i fatti hanno poco a che fare dico questo perché perché in fondo appunto se c'era una dimostrazione che lo Stato italiano e la nazione italiana bene o male insomma erano stati costituiti avevano retto l'Italia aveva vinto la guerra mica l'aveva persa aveva vinto la guerra se c'era una dimostrazione che moralmente intellettualmente gli italiani erano stati insomma riformati già abbastanza da essere in grado di durare uno sforzo di resistere a uno sforzo terribile quale fu quello della guerra beh appunto la guerra l'aveva fornita questa dimostrazione aveva dimostrato che tra nazione e Stato tra popoli istituzioni bene o male bene o male c'era una sufficiente intesa una solidità sufficiente tant'è vero che appunto la guerra era stata vinta e invece la guerra portò al potere i fascisti portò al potere innanzitutto cancellò completamente la classe politica che bene o male era stata la protagonista di quel cinquantennio che si era concluso con la guerra di quella appunto secondo Mussolini e i suoi amici spreggevole oligarchia liberal borghese bene o male quella spreggevole oligarchia liberal borghese però insomma qualcosa era riuscito a fare se la guerra era stata condotta a termine in maniera positiva però invece la guerra portò al potere i critici dello Stato della nazione riuscita dal risorgimento diciamo così gli anti-risorgimentari come mai una cosa singolare perché accade questo beh questo accade non è inutile rifare la storia minutamente ma insomma per due fattori fondamentali credo e perché c'è fu una spaccatura verticale della classe dirigente quindi coloro che avrebbero dovuto rivendicare a sé il merito di tutto questo si ritrovarono diciamo così spaccati in due ali l'ala giolittiana l'ala salandrina insomma i liberal democratici i liberal conservatori chiamateli come come volete e in questo contrasto in questo contrasto che si manifesta al momento dell'entrata in guerra dell'Italia come sapete perché appunto una parte della vecchia classe dirigente non voleva l'entrata in guerra cioè giolitti in questo contrasto che si provoca in questa rottura frattura della classe dirigente si infilarono con una grande capacità politica si infilarono i fautori delle novità il fronte degli intellettuali innovatori irrequieti gli interventisti repubblicani radicali mussolini nazionalisti tutti costoro appunto agitando agitando l'arma del patriottismo agitando l'arma del patriottismo cioè accusando chi non era d'accordo con l'entrata in guerra di essere nemici dei nemici della patria e fu la prima occasione in cui appunto questo fronte che fino allora era un fronte intellettuale diventò un fronte politico diventò un fronte politico la vittoria di Mussolini incomincia qui incomincia nel maggio del 15 la vittoria di Mussolini così come la vittoria di Lenin in Russia nel 17 cominciò dal congresso appunto di Kinter e Zimmerwald in cui prese una posizione sulla guerra e sono gli uomini politici che capiscono in anticipo che cosa è la guerra e che cosa produrrà la guerra che vincono poi dopo che ereditano diciamo così che passano all'incasso politico della guerra Mussolini come Lenin capì cos'era la guerra capì che la guerra era una grande occasione primo appunto per trasformare una posizione che fino ad ora era una posizione ideologica intellettuale una posizione politica e per spaccare appunto il fronte avversario il patriottismo appunto questa fu dopo la divisione la spaccatura della classe dirigente l'altro secondo elemento che produsse la vittoria dei innovatori diciamo così la crisi del vecchio Stato fu appunto il fatto che il patriottismo diventò un elemento di scontro politico un terreno sul quale appunto si verificò la catastrofe eppure il suicidio politico di tutta la sinistra italiana a cominciare dai socialisti che era il paese più forte che in una maniera del tutto demenziale appunto in un paese che aveva vinto la guerra ha preso una posizione contro la guerra cioè capisco avere una posizione contro la guerra al momento che la guerra inizia ma una volta che la guerra è fatta ed è pure vinta beh dichiararsi contro la guerra diventa una posizione di suicidio politico puro prendersela e cominciare appunto a insultare un esercito che ha vinto una guerra e che quindi al contrario della Russia in cui appunto l'esercito si era liquefatto l'esercito che aveva vinto la guerra aveva i fucili ben oliati anche questo fu una cosa appunto del tutto demenziale è poco noto perché diciamo così si stende di solito un pietoso velo come dire di silenzio su queste cose ma i socialisti vietarono di presentare come candidati alle elezioni comunali quelli che erano andati volontari in guerra i ragazzi di vent'anni che presi entusiasmo andati volontari in guerra se voi leggete sulla navicella parlamentare le biografie dei deputati socialisti eletti nelle elezioni del 19 vedete come quelli che hanno fatto la guerra che sono stati chiamati alle armi si scusano scrivono delle cose delle frasi incredibili dicendo chiamato alle armi tuttavia non conseguì neanche una promozione ne ebbe neanche una medaglia cioè perché guardate proprio io non ho fatto niente anzi quasi ho boicottato perché il clima era quello perché il clima era quello e tra i due elementi tra i due settori diciamo così tra i due settori del fronte degli innovatori di quelli che volevano liquidare il vecchio Stato e in qualche modo anche la vecchia nazione borghese quali erano queste due schiene naturalmente taglio le cose con l'accetta ma però insomma non vado molto lontano diciamo così da una raffigurazione molto abbastanza vicina alla verità i due fronti erano da un lato quelli che volevano la rivoluzione nazionale chiamiamola così cioè i fascisti i nazionalisti le destre coinvolgendo il popolo coinvolgendo il popolo ma però mantenendo diciamo così la guida di tutto il movimento di tutto il nuovo Stato in mani non popolari in mani diciamo così borghesi chiamiamola così e invece l'altra era l'ala che chiamerei diciamo così della rivoluzione democratico popolare in cui c'erano i cattolici neonato partito cattolico c'erano i socialisti anche con appunto questo carattere di c'erano le nuove culture politiche che si che si che si che si dividono e vince la la vittoria va al fascismo cioè alla rivoluzione nazionale non la rivoluzione democratica popolare guidata appunto la rivoluzione nazionale guidata da elite non popolare ma da elite intellettuali e e quindi appunto si afferma come idea centrale del nuovo Stato l'ingresso delle masse popolari attraverso che cosa attraverso la rivoluzione fascista attraverso diciamo così non è un caso che il fascismo assume su di sé il nome di rivoluzione che diciamo così sequestra monopolizza riuscendoci abbastanza diciamo così questa parola di rivoluzione diventando quella cosa singolare che Togliatti chiamerà un regime reazionario ma di massa in cui appunto quindi le masse in realtà contano in realtà le masse hanno diciamo si sono per la prima volta in qualche modo entrano nell'interesse dello Stato la cosa pubblica guarda alle masse allo Stato infatti come sapete il fascismo mette in campo le prime forme di assistenza pubblica di assistenza maternità infanzia eccetera eccetera naturalmente appunto in un quadro in cui il paese il nuovo Stato fascista mira alla modernità alla modernizzazione del paese e a una diciamo così a una manifestazione a una realizzazione della missione nazionale attraverso una politica di tipo in senso vasto in senso ampio diciamo così imperialistico in senso ampio imperialistico l'idea di missione che l'Italia ha una grande missione Italia è un grande paese che non può stare lì racchiuso nei suoi confini ma un grande ruolo da svolgere nel mondo appunto è il cuore del modo in cui il fascismo si rapporta allo scenario internazionale allo scenario internazionale tutto questo è un tradimento del risorgimento cioè il fascismo appunto questo è uno stato nuovo rappresenta un tradimento del risorgimento ma sì naturalmente per tanti versi per tanti versi però forse no anche il patriottismo fascista è un patriottismo che rompe in maniera radicale con il patriottismo precedente con il patriottismo del vecchio stato risorgimentale anche qui sì e no bisogna considerare che il patriottismo diciamo ufficiale dell'Italia monarchica dell'Italia dal 1860 al 18 era stato per esempio un patriottismo in cui centrale non era stato lo statuto non era stata la carta costituzionale che garantiva i cittadini i diritti di libertà centrale molto di più era stato nel nel formare anche emotivamente il cuore del patriottismo della piccola media borghesia italiana che si riconosceva nello stato era stata la figura del re il monarca la monarchia era veramente il cuore del patriottismo ufficiale italiano non era lo statuto non era lo statuto e questo naturalmente consentì facilmente un passaggio da un patriottismo appunto di prima al patriottismo di dopo perché lo statuto era stato mandato in soffitto a me il re restava sempre il re il re restava sempre il re cioè si poteva continuare tranquillamente a pensare che l'Italia era sempre l'Italia sì certo il duce ha cambiato un po' le cose però insomma in fondo appunto la obbligazione politica alla monarchia restava l'obbligazione politica centrale dei cittadini italiani cosa che spiega anche perché a un cenno del re complice naturalmente anche l'andamento della seconda guerra mondiale ad un cenno del re il fascismo fu messo da parte quasi senza colpo ferire ma voglio ritornare alla domanda iniziale fu il fascismo appunto un tradimento del risorgimento dal nostro punto di vista che ci interessa lo stato la nazione e la patria per la patria l'ho già detto per lo stato e la nazione ma il risorgimento lo stato uscito dal risorgimento aveva visto anch'esso una fortissima restringimento della legittimazione politica cosa voglio dire che appunto erano legittimati a partecipare alla vita politica nell'Italia liberale almeno diciamo nei primi 40 anni e quindi a governare il paese mica tutti non tutte le forze politiche certo si poteva essere socialisti si vendevano avanti si poteva essere cattolici si vendevano i giornali cattolici però era impensabile che ci potesse essere un primo ministro socialista un primo ministro cattolico cioè c'era una forma di fatto di limitazione della legittimazione politica i rossi e i neri erano esclusi dalla legittimazione politica potevano arrivare ad essere eletti deputati ma più di là non potevano andare perché il potere era diciamo così istituzionalmente diciamo così secondo una costituzione materiale noi diremmo oggi non scritta nelle mani dei costituzionali nel fronte dei costituzionali quindi il fascismo certo restringe molto ulteriormente l'area della legittimazione politica si può essere solo fascisti però se ci si pensa appunto c'è una differenza di quantità che è naturalmente importante ma non di qualità e questo è legato al fatto che certo col fascismo si afferma il monopartitismo ma di fatto un monopartitismo virtuale c'era anche nell'Italia liberale solo i liberali erano legittimati a a governare il paese proprio per questo diciamo così c'era una forma come dire di di connessione tra politica e Stato che noi possiamo chiamare regime cioè quando non c'è non c'è nessuna possibilità di alternanza perché di fatto nell'Italia liberale non era possibile che ci fosse nessuna alternanza al governo se non all'interno dello schieramento liberale si poteva poter andare a esserci Sonnino poter esserci Giolitti poter esserci Salandra ma da lì non si usciva insomma da lì non si poteva uscire quindi c'era diciamo così una sorta di monopartitismo di fatto anche questo appunto certo il fascismo lo radicalizza lo esaspera ma anche qui ci sono delle assonanze delle somiglianze significative e sono costretto a fare dei salti da canguro a fare la stereografia del canguro cioè qui siamo arrivati a 22 saltiamo precisamente al 40 del resto poi appunto durante il fascismo le cose rimangono così insomma appunto come ho cercato di spiegare in un modo appunto c'è prima in cui il sentimento patriottico rimase il sentimento della patria ebbe modo di restare io credo io credo forse alcuni miei colleghi non sarebbero d'accordo ma insomma non posso che esprimermi le mie idee non quelle dei miei colleghi quali saranno poi loro a loro volta quando saranno invitati e lo sono sicuramente diranno loro opinioni io penso che questo sentimento maggioritario della patria che si era formato secondo le caratteristiche che ho detto intorno alla monarchia allo stato monarchico negli anni dal 60 al 15 al 18 quello per cui tanti italiani alcuni milioni italiani erano usciti dalle trincee gridando Savoia non gridavano l'Italia non gridavano viva lo statuto avanti no gridavano Savoia quel tipo di tutti i corpi dello stato giuravano fedeltà al re e sui reali successori quel tipo di patriottismo rimase sostanzialmente come un fiume carsico ma neppure tanto carsico anche durante il fascismo e proprio questo io credo aggravò moltissimo il trauma dell'8 settembre e appunto mi ha fatto dire mi ha fatto riprendere un'espressione usata da un contemporaneo e mi ha fatto parlare per quell'occasione di morte della patria perché quel patriottismo che era intimamente legato alla presenza dello stato che si riassumeva nello stato nel suo capo il re con la sconfitta disastrosa militare e poi con l'8 settembre con gli eventi che tutti conosciamo fu letteralmente sbriciolato letteralmente sbriciolato cioè non si poté più quando si vide appunto il disfacimento così clamoroso dello stato e il comportamento così inadeguato per usare un eufemismo del re naturalmente diciamo così un'intera impalcatura storica che durava dal 1860 cadde rovinosamente cadde rovinosamente e allora la domanda è la resistenza il grande fenomeno politico che nacque da questo crollo riuscì a risalire la corrente a ricostruire lo stato il patriottismo la nazione io credo che la resistenza riuscì a ricostituire lo stato non era una cosa da poco riuscì a ricostruire lo stato sicuramente riuscì a salvare lo stato anche se naturalmente tutto quello che la resistenza fece riuscì a fare riuscì a farlo soltanto perché gli alleati cioè i vincitori della guerra erano d'accordo naturalmente se inglesi e americani non fossero stati d'accordo non si faceva nulla naturalmente questo sembra ovvio però va ricordato anche per distribuire meriti che troppo pomposamente forse diciamo così ci si autoassegna come italiani voglio dire però non riuscì io credo alla resistenza di ricostituire la nazione cioè di ricostituire una nazione democratica fondando insieme fondendo insieme valori nazionali e valori democratici questo non gli riuscì perché innanzitutto perché è difficilissimo su una sconfitta militare fondare rifondare dei valori della nazione le nazioni nascono dalle vittorie non nascono dalle sconfitte e non nascono diciamo così da quel rapporto ambiguo che ci legava e che legava la resistenza agli alleati per cui appunto quelli erano i nemici però erano insieme appunto anche alleati amici cioè un rapporto però di dipendenza in cui appunto l'autonomia l'indipendenza nazionale naturalmente aveva dei binari strettissimi su cui muoversi e questo quando hai dei binari così stretti quasi evanescenti su cui muoverti è difficile che rifondi la la nazione poi perché la resistenza era divisa al proprio interno aveva obiettivi obiettivi sempre più c'è chiaro molto diversi le varie forze della resistenza avevano obiettivi generali e anche valori politici molto molto diversi e all'interno della resistenza poi erano presenti in maniera maggioritaria due partiti il partito cattolico e il partito comunista che avevano un rapporto polemico con il vecchio stato risorgimentale in modi diversi naturalmente avevano un rapporto polemico rifondare sia pure in modo democratico i valori della nazione in qualche modo non poteva essere fatto di fronte a 45 milioni o quanti a 40 milioni di italiani che avevano vissuto fino allora la storia dell'Italia cancellando completamente quella storia bisognava in qualche modo richiamarsi al passato le nazioni nascono sempre richiamandosi al passato non nascono dal nulla magari inventandosi un passato mitico così però parlo ancora di esce penuzzi e richiamarsi al passato nazionale italiano era difficile diciamo così difficile sia per sia per sia per i comunisti sia per i cattolici cattolici evidentemente è ovvio perché ma anche i comunisti durante gli anni 30 Togliatti conduce una polemica sgangheratissima e volgare contro il risorgimento italiano che a leggerlo oggi diciamo si fa caponare la pelle dice che il risorgimento è stato una carnevalata che serve a ubriacare i piccoli borghesi italiani che cercano glorie posticce che non hanno mai avuto cedere cesso una serie di insulti vari e e quindi appunto questa divisione questa presenza di tradizioni politiche che con la nazione avevano a che fare questo rapporto con la sconfitta militare resero impossibile colmare quel grande vuoto di patria di nazione che si era creato con l'8 settembre fu dunque rifondato lo Stato ma senza la nazione fu fondato lo Stato su base esclusivamente dei nuovi valori politici democratici cioè la Costituzione la Costituzione ma per l'appunto senza che i valori della Costituzione avessero un'effettiva corrispondenza in una nazione democratica prendiamoci caro l'Italia del 46 47 48 non era certo un paese in cui la cultura democratica come noi l'intendiamo che oserei dire finalmente è l'unico modo che è giusto è sensato intenderli non era un paese in cui questa cultura fosse molto diffusa fosse molto diffusa sappiamo tutti il clima anche sì di collaborazione ma anche di reciproco sospetto tra le parti che hanno scritto la Costituzione in cui appunto se noi oggi abbiamo una struttura di governo così debole così è anche perché appunto sia i comunisti che i cattolici non volevano mettere nella carta costituzionale una struttura di governo forte perché temevano che se quella struttura fosse capitata nelle mani dall'avversario e sarebbe stato poi più difficile farci i conti quindi i valori democratici sostituiscono la nazione ma i valori ideologici democratici della Costituzione però anche essi sono diciamo così valori fortemente intrisi di prescrittivismo politico di valori politici sono valori ideologici però hanno un fortissimo contenuto politico tant'è vero che appunto si affidano poi alla realizzazione di una politica i primi 56 articoli della Costituzione dicono la Repubblica fa questo la Repubblica fa quest'altro da tutta una specie di programma politico all'insegna di una visione di valori politici particolari che sono quelli diciamo così del solidarismo sociale il solidarismo sociale è l'asse dei valori della Costituzione ma bisogna ammettere però che il solidarismo sociale è una cultura politica ci sono altre culture politiche ugualmente democratiche che non condividono i principi del solidarismo sociale la signora Thatcher e il suo programma politico non è assolutamente diciamo così riconducibile alla Costituzione italiana il programma politico la signora Thatcher è fuori dalla Costituzione della Repubblica italiana questo voglio dire con questo apparente paradosso ma non tanto che è una Costituzione democratica naturalmente all'insegna democratica ma non è diciamo così inclusiva di tutte le culture politiche democratiche che possono aversi una cultura individualistico liberale non è diciamo così non rientra certo nel mainstream dei valori costituzionali e questo pone dei problemi naturalmente cos'è che ha sostituito la nazione democratica i partiti i partiti del CLN sono stati il surrogato della nazione democratica che non esisteva quella parte che era stata sconfitta nel 22 ha la sua rivincita dal 45 in poi e i partiti appunto del CLN sono i veri surrogati di quella nazione di quella cultura della democrazia che non c'è nel paese che manca che è stentata che è poca e sempre più nei 40 anni dopo la repubblica dopo l'inizio della repubblica la repubblica sarà sempre di più una repubblica dei partiti la repubblica dei partiti avrà nei partiti il suo il suo collante ideologico ma naturalmente questo enfasi questa forza questa centralità della repubblica dei partiti come l'ha chiamata Pietro Scoppola è a scapito delle istituzioni dello Stato ciò che determina proprio la forza la centralità l'importanza cruciale dei partiti che sostituiscono la nazione democratica che non c'è determina appunto l'impoverimento dello Stato la partizizzazione dello Stato il fatto che i partiti diventano così centrali che in molte occasioni che è inutile che vi ricordi perché li abbiamo tutti presenti si mangiano lo Stato si mangiano le istituzioni con tutti le conseguenze e con la scomparsa virtuale del senso della patria voglio leggervi alcune righe di un importante intellettuale italiano Arturo Carlo Iemolo che appunto all'inizio degli anni settanta mette a confronto il tipo di patria di patriottismo a cui lui è stato allevato prima della prima guerra mondiale e invece lo spettacolo dell'Italia sotto i suoi occhi e dice Iemolo in questo bellissimo libro di ricordi che si chiama Anni di Prova non trovo più quello Stato italiano di cui da bambino mi insegnarono che era il simbolo la bandiera e dal suo passaggio dovevo scoprirmi osservo con qualche meraviglia il tono compiaciuto con cui i giornali ben pensanti delle varie gradazioni constatano che è finita l'era delle sovranità nazionali che i confini di Stato non hanno più senso è in relazione alla reale fine della sovranità nazionale che si è anche attenuata fino quasi a scomparire il senso della sovranità interna me lo sono chiesto più volte guardando la vicenda italiana perché dopo la seconda guerra ho visto deteriorarsi rapidamente anche all'interno la sovranità nazionale la marcia al ritroso rispetto a quella che era stata la formazione dello Stato moderno è evidente e via di seguito cioè appunto c'è la perdita di quella della patria e dello Stato della patria e dello Stato questo ha determinato diciamo così credo mi avvio alla fine per ancora cinque minuti ha determinato credo delle gravissime conseguenze questo indebolimento progressivo dello Stato e delle istituzioni che noi oggi viviamo nella cui crisi noi oggi viviamo ha determinato il fatto che nel nostro paese cito la conseguenza più importante più grave che nel nostro paese non si possono formare o almeno è molto difficile che si formino delle elite le democrazie che sono il governo del popolo come sapete insomma in cui conta il numero giustamente conta il numero ogni testa un voto però per non diventare appunto qualcosa che poi ci fa giustamente gridare al populismo alla demagogia hanno bisogno di essere corrette le democrazie dalla presenza di elite che non dipendano da meccanismi di formazione democratica che non siano elettive una delle grandi modi di formazione di elite è appunto per esempio la cultura degli interessi nazionali le alte burocrazie dello Stato gli ambasciatori i direttori generali i grandi servitori dello Stato si formano in modo appropriato se hanno modo di riferirsi a una cosa che appunto non è determinato dalla politica bensì è determinato da altre cose da quella cosa che si chiama interessi nazionali e che esistono perché esiste la nazione naturalmente che gli permette anche di assicurare una continuità rispetto alle oscillazioni della politica permette quella cosa che dovrebbe permettere ai direttori generali di dire a un ministro no questo questo lei non lo può fare perché contro le tradizioni e contro gli interessi lei ha la maggioranza politica però se lei lo fa io mi dimetto cosa che non succede mai succede in altri paesi altri paesi come la Francia hanno delle scuole e delle tradizioni di corpi dello Stato appunto non dipendenti dalla politica non dipendenti dalla politica la grande importanza della cultura della nazione e che la cultura della nazione degli interessi nazionali segna uno spazio non politicamente contrattabile cioè che non è oggetto di scambio che invece è l'asse della politica democratica la democrazia funziona così io do una cosa a te tu dai una cosa a me insomma è il reciproco vantaggio ma quindi anche spesso la perdita di vista dell'interesse generale perché questo è il grande il grande problema della democrazia come si fa la presenza di elite educate all'interesse nazionale può essere appunto è di solito almeno è stato storicamente un grande elemento di correzione e finisco con che cosa finisco dicendo che tutte le culture politiche italiane del novecento sono state cancellate dalla storia penso che la crisi politica statale nazionale del nostro paese dipende dal fatto che le culture politiche con cui l'Italia aveva segnato facciamo attenzione anche a questo un qualche cosa di originale le culture politiche italiane del novecento sono state qualcosa di specificamente italiano il cattolicesimo politico certo c'è stato anche in altri paesi ma solo in Italia ha governato per 40 anni ha diciamo così avuto quell'intensità di presenza pubblica statale sociale che ha avuto il comunismo nella sua versione occidentale granociana è stata come il noto una specificità italiana invano tentata di imitare il fascismo anche il fascismo è stato una cultura politica squisitamente come avrebbe detto Mussolini squisitamente italiana queste culture politiche che hanno servito allo scopo intendiamoci in qualche modo tutte quante sono servite a portare le masse nello Stato l'Italia del 2000 diciamo così è molto diversa certo dall'Italia del 1900 è un paese democratico non soltanto perché ha ordinamenti politici democratici è una costituzione democratica ma anche perché è in qualche modo in maniera incomparabilmente superiore a quella che era l'Italia del 1900 una Italia del popolo diciamo così e al tempo stesso anche quelle culture sono riuscite a rendere moderno il paese l'Italia appunto conclude il 900 non parliamo degli ultimi dieci anni ma conclude il 900 essendo il settimo paese industriale del mondo un obiettivo diciamo così inimmaginabile alla generazione che nel 1880 1890 se la doveva vedere con plebi contadine poverissime con disordini la cavalleria che teneva l'ordine a sciabolate nelle campagne e nelle città quindi un progresso immenso che si deve a queste culture politiche prodotte mi viene da dire dal genio italiano però queste culture politiche sono state cancellate dalla storia il fascismo è stato travolto dalla sconfitta militare il cattolicesimo politico è stato travolto dalla guerra fredda insieme al comunismo gramsciano la fine del comunismo in unione sovietica ha voluto dire la fine di quella cultura in Italia e la fine della posizione particolare del PC nel sistema politico ha voluto dire anche la fine della democrazia cristiana poi forse si può dire che queste fine erano già cominciate da tempo però insomma il cuore è avvenuto lì appunto la storia in vari modi ha posto fine alla alla storia specifica delle culture nazionali statali italiane e ha consegnato l'Italia nuda diciamo così nuda di culture politiche al nuovo secolo al nuovo secolo e avremmo dovuto diventare finalmente liberal democratici perché ormai le nostre culture la riserva di cose nostre l'avevamo tutta spesa non potevamo che diventare liberal democratici infatti a parole lo siamo diventati tutti liberali democratici soltanto come sapete tra le parole e i fatti poi c'è una bella differenza e mi sembra appunto che l'Italia appunto stenta moltissimo a ritrovare appunto a celebrare un incontro vero e fertile con la cultura liberal democratica che appunto forse è molto lontana per origini per storia viene da un'altra storia all'Italia certo che noi questo oggi è il problema che abbiamo e abbiamo il problema di ricostruire una patria su questa base una base che non ci è molto familiare ma che però è l'unica che oggi è a nostra disposizione grazie 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 grazie